Esordio vincente 3-0, ritroviamo ancora la Champions, è sempre un bel ritrovare. Beh sì, siamo partite con il piede giusto per fortuna, non poteva andare meglio, un 3-0 era quello che ci voleva per iniziare bene questa avventura. Adesso viene il bello. Questa sera ti abbiamo visto, adesso io non ho ancora visto il referto, comunque un sacco di punti. Non lo sapevo, no questa sera mi è andata bene, sono riuscita ad andare bene anche nel fondamentale della battuta, sono contenta, ovvio che con questo pallone si è più facilitati, infatti la ricezione è abbastanza dura. Abbiamo visto flottare parecchio in volo? Eh tantissimo, infatti non sono personalmente soddisfatta della mia ricezione, però questo pallone purtroppo è troppo imprevedibile, dovremmo allenarci, però insomma cercare di contenere al meglio le battute. Cosa ti è piaciuto di più della tua squadra stasera e cosa magari ti è piaciuto un po' di meno? Ma abbiamo fatto le cose semplici, perché durante lo studio della partita abbiamo visto che loro giocavano con degli schemi un po' particolari, quindi abbiamo cercato di stare concentrate su questa cosa. Non è sempre riuscita, però insomma è andata bene così, perché poi non serviva tante volte forzare, ma semplicemente magari buttare la palla nell'altro campo e ci pensavano loro. Ma sicuramente un esordio positivo, con questo 3-0 non potevamo desiderare di meglio, partire con il piede giusto è quello che serve per affrontare bene questa avventura che sarà veramente difficile. Ti ringrazio, ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie, ciao.